Oggi vi presento il Cake Skirt, un nuovo prodotto pensato per appellire la base delle torte. Si presenta in questo modo, si tratta di spezzoni petali di nastro adatto al contatto con gli alimenti, fissati alla base da un bottone in modo che si possono aprire a ventaglio e creare una sorta di fiore. Consiglio sempre quando si aprono di partire dal petalo più interno mentre si apre tenere le dita alla base del petalo, in questo modo. Una volta aperti tutti i petali, li sistemiamo. Lo appoggiamo su un'alzatina o su un piatto da portata e vi mettiamo sopra il nostro dolce. Con estrema cautela. Possiamo decorare eventualmente anche con un fiore e se ci fossero delle imperfezioni possiamo sistemare i petali una volta appoggiata la torta. Grazie a tutti.